In questa lezione parleremo del concetto di insieme. Dobbiamo sottolineare che parleremo del concetto di insieme in senso matematico, perché quando utilizziamo la parola insieme o insiemi nel linguaggio comune non intendiamo quello che invece intendiamo in matematica. In matematica per insieme si intende un raggruppamento di cose, animali o persone definito in modo tale da poter stabilire con certezza quali elementi appartengono all'insieme. E questi elementi devono essere tutti diversi tra loro. Facciamo un esempio. Le città europee costituiscono un insieme in senso matematico, perché io posso stabilire con certezza se una città è in questo insieme o no. Ad esempio, Roma appartiene all'insieme, New York non appartiene all'insieme. Quindi questo non dipende dal gusto personale, è uguale per tutti. Quindi questo, ok, è un insieme in senso matematico. Mentre le città più belle non è un insieme in senso matematico, perché la città più bella per me non è più bella per un'altra persona. Quindi dipende dal gusto personale, è una cosa soggettiva. Questa cosa soggettiva non va bene per l'insieme in senso matematico. Quindi questo non è un esempio di insieme. Gli insiemi li indichiamo con le lettere maiuscole del nostro alfabeto. Quindi per chiamare gli insiemi utilizzerò la lettera A, B, C e così via. Mentre, quindi questo è per indicare gli insiemi. Mentre per indicare gli elementi utilizzerò le lettere minuscole. Per indicare che un elemento appartiene ad un insieme scriverò L'elemento A appartiene all'insieme A oppure l'elemento B appartiene all'insieme B. Se A è l'insieme delle città europee, quello che abbiamo scritto prima, non lo riscrivo adesso, dirò che Roma appartiene all'insieme A. Mentre New York non appartiene all'insieme A. Quindi, il simbolo di appartenenza e il simbolo di non appartenenza. Facciamo adesso un esempio di un insieme in senso matematico e vediamo quali sono i modi per rappresentare un insieme. Consideriamo come insieme l'insieme A costituito dalle lettere della parola foglio. Allora, un modo per rappresentarlo è elencazione. Per elencazione, come ci dice la parola, dobbiamo elencare tutti gli elementi del nostro insieme. Allora, chiamo A il nostro insieme, A maiuscola, uguale, aperta graffa, F, punto e virgola, O, punto e virgola, potete utilizzare il punto e virgola o la virgola, è indifferente, G, L, I. L'ultima O non la metto perché gli elementi di un insieme devono essere tutti diversi, quindi li scrivo una volta sola. Secondo modo, per caratteristica, cioè devo scrivere qual è la caratteristica comune a tutti i miei elementi. Quindi scriverò A maiuscolo, che è il nome del nostro insieme, uguale, aperta graffa, gli elementi, vi ricordo, si indicano con la lettera minuscola, la lettera minuscola è tale che ogni elemento A è una lettera della parola foglio chiusa graffa. Quindi per caratteristica devo scrivere qual è la caratteristica di tutti gli elementi del nostro insieme. Il terzo ed ultimo modo è il modo grafico, quindi devo disegnare l'insieme, rappresentarlo, e si disegna attraverso il diagramma di Eulero-Ven. Per fare la rappresentazione grafica disegno il mio insieme, scrivo fuori il suo nome e all'interno indico con un pallino ogni elemento e scrivo il nome, elemento F, elemento O, elemento G, elemento L ed elemento I. Quindi questi sono i tre modi per rappresentare un insieme. L'esempio abbiamo preso noi, quindi l'esempio delle lettere della parola foglio, ha cinque elementi. Quindi io riesco a rappresentarli tutti, ad elencarli tutti e riesco a contarli. Quindi in questo caso si parla di insieme finito. Quindi un insieme finito se ha un numero finito di elementi, quindi io posso contarli, posso rappresentarli, posso scriverli tutti, anche se fossero tantissimi, potrei farlo. Invece parliamo di insieme infinito se ha un numero infinito di elementi. Ad esempio, se consideriamo come numeri solo quelli che utilizziamo per contare, perché finora avete studiato solo quelli, chiamo B l'insieme dei numeri dispari, quindi uno, tre, cinque, sette e così via, sto dicendo e così via. Quindi metto tre puntini, perché non posso rappresentarli tutti. Perché i numeri dispari sono infiniti. Questi esempi li potrete fare anche con numeri che non si utilizzano solo per contare, ma anche per altre cose, però le studierete in seguito. Quindi per elencazione metto i puntini. Per caratteristica scrivo come prima, B è tale che B è un numero dispari. Mentre graficamente vado a fare l'insieme, metto fuori il suo nome, uno, tre, cinque, sette e così via. Metto qualche pallino senza il nome dell'elemento per indicare che sono infiniti.